Ok raga, nello scorso video abbiamo visto Giorgio Chiellini ma oggi andiamo a vedere qualcun altro Oggi però non vediamo i giocatori, oggi vedremo le maglie Quindi iniziamo da qui, dalle Tytans Ovviamente molti sono doppioni, le carte di Tytans invece non ho comprato quella Cioè non voglio comprare il coso perché secondo me è iniziale Ok Iniziamo con la maglia della... Sì, va bene Maglia del Milan e Maglia del Venezia Andiamo in Nations League Nations League è piena, ora non so come si pronunci veramente Io lo pronuncio così, poi non mi interessa Allora iniziamo con la maglia bella della Svezia Ok, maglia dell'Andorra Adesso quel computer si riempirà completamente di maglie Maglia dell'Estonia Appoggio un attimo qua, poi la metto più là Poi maglia della Croazia Lewandowski, maglia della Ponzia del Segona Sì, maglia della Svizzera, maglia dell'Albania È molto pieno di maglie, stiamo rimedendo alla fine di prima Maglia della Norvegia, maglia della Cipro Maglia della Francia Maglia dell'Austria, quanto per la Francia non hai dato il credito Israele, poi maglia della Ciechia, Slovacchia Poi Romania, Georgia, Isole Paure, Armenia, Power, Spagna, Polonia E poi Iceland Sono un botto di maglie, signori Adesso li vado a posizionarle Vi faccio vedere un attimo la situazione Che è un casino di maglie Ok, adesso andiamo a vedere Le maglie di serie A Quindi andiamo a togliere tutti questi Vedete cosa fa? Ha tremato tutto, signori Ha tremato tutto Spero veramente Mi è tornato il dolore alla schiena Cacchio Spero veramente E dico, spero veramente Che escano Qui in Italia Ora non so se sono uscite Perché io questo video lo sto registrando Tipo Cioè, voi lo vedrete mi pare a novembre Io lo vedrò Cioè Io lo sto registrando Che tipo Che mese è? Luglio? Sì, siamo alla fine di luglio In poche parole Quindi Allora Maglia del Venezia E maglia della Samp Se mettei Ok E le mettiamo Qui Allora Abbiamo finito le maglie Quindi anche per oggi abbiamo finito Però adesso andiamo a contarle Per Che lì erano quattro figurine Ma adesso andiamo a contare Tutte Le figurine Delle maglie E le carte Quindi abbiamo Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove Dieci, undici Aspetta Quattordici, quindici Poi Sedici, diciassette, diciotto Dicionevo, venti e ventuno Se ne ho mancata qualcuno Scrivetelo nei commenti Ok Io vi saluto Ciao Ciao